Ciao a tutti, in questo primo video vi mostrerò come ottenere una pittura di abstrato con un textura di attenzione con un risultato molto intensivo. Ho usato questi strumenti. Asch, sand, spray water spray, liquitex medium, colori acrilici, brush, un pennello di schifo, un scriver, e una palla di palla. Iniziamo ad ottenere un tono molto unico di grigio, mixando bianco e nero. Dopo aggiungo l'esho di palo santo per aumentare la tonalità. Aggiungo l'esho di palo santo, potrei farlo con il grigio e per avere un strumento uniforme. Aggiungo l'esho di palo santo, potrei farlo con il grigio e per avere un strumento uniforme. bahce dell'esho di palo santo, potre farlato pesciare personale. e ora descend Scraper 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 Now I paint the outside of the texture with a lighter gray. Scraper Grazie a tutti. I use the shaving brush to emphasize the texture. I use the shaving brush. 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 Now I sprinkle the canvas with the black and white diluted with the liquid X medium. I use the shaving brush. 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 I use the shaving brush.